Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Imprunita e Barberino, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa per traffico intenso. Sulla FIPILI rallentamenti tra La Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la A1 di Firenze Imprunita. Sulla regionale 69 Valdarno, senso unico alternato per lavori, al chilometro 1,700 nel comune di Pelago. Vi ricordiamo che per la giornata di oggi sono possibili disservizi al trasporto pubblico locale per uno sciopero nazionale che interesserà la tramvia e gli autobus di Autolinea e Toscane. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!